Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui per fare un nuovo video con la carriera giocatore con il Minan tantissimi mi piace per un prossimo video con la carriera quindi mi raccomando, tanti like, asette entro io, dai raga, ma io dove sto? no, è fuori gioco, cioè è quasi fuori gioco dai, tiro, che gol, ah no non è gol, l'avevo vista dentro, raga scusate, l'avevo vista dentro dal telefono e mo è gol GamerX, dai, iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare ai 880 iscritti quindi mi raccomando devo vincere, devo fare due gol, vabbè, di vincere ragazzi ho vinto ma che fa? attenzione i GamerX, attenzione va con la palla i GamerX i GamerX allora, raga, il tempo è che finisce la partita, poi devo stoppare il video perché, cioè, devo andare a mangiare attenzione non so chi è due minuti di video, sì, raga attenzione attenzione perché ehm voglio fare un altro gol con il mio giocatore, ragazzi, un giocatore di youtube attenzione, la passa no, è GamerX, no, la prende passa, dai attenzione, GamerX, GamerX, GamerX no, come si fa a sbagliare no, raga, scusate, ma non ci riesco cioè, perché è la seconda volta che gioco a FIFA, gioco solo a Racing e a Fortnite si sente, non so che dovrei andare a mangiare, attenzione ma perché sto là G-Rude ragazzi, 3-0, dai allora, stanno picciando un GamerX attenzione GamerX i GamerX no scusa ragazzi che avete sentito da parlare ma era mio zio no no mannancho no 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 dai passatela a me a me a me a me a me dai tira a giro no dai, raga attenzione attenzione e è l'ultimo gol l'ultimo gol no mannaggia debuto si mi sa assist raga 5 minuti 20 secondi e ciao ragazzi il video finisce qua, bella? Grazie a tutti.